Musica Benvenuti ragazzi, io sono Darkshadow e oggi siamo nel quinto episodio di Assassin's Creed Unity Nello scorso episodio ci eravamo entroflati al ballo e abbiamo scoperto che cosa c'era dentro la lettera e oggi devono il nostro padre in questo episodio ci siamo dentro la Bastiglia e ne usciremo anche, credo, se lo faremo in tempo poi ci sarà la presa della Bastiglia poi tra una revoluzione francese ne scopriamo anche un paio di cose sugli assassini eccetera vabbè, partiamo No, non sono stato io è stato Daviano Ma che schifo, è nudo ed è anche pazzo Cioè, era vero la parola Peggio di Outlast Nel tuo culo Inferno Sei in una zona vietata Com'è vietata? Sono dentro la prigione Che cazzo E si droga Questa è la tua nuova casa Eh, no, non è vero Adesso esco Io potessi Non è la mia nuova casa Un forziere No, guarda fuori Dormiamo 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 Da dove l'hai preso, idiota? Non sono dell'umore Ridammelo Prendilo Se ci riesci Ah, dobbiamo combattere È bella pro Tanto è scrauso Madonna Madonna Ma è livello 1 Ma non è un assassino Scrausy Perché questo qui È un assassino Sì, vi ho già esplorato Purtroppo Su Scraus Della madonna Ecco Bel colpo, idiota Vediamo Vediamo se ti sai Anche difendere Sì, mi so Anche difendere Brutto Coglione Di merda No Brutto Figlio Di puttana Fai schifo Sei scrauso Guarda Io c'ho ancora vita piena Beh, anche tu C'hai ancora vita piena Però Essenzialmente Fotte sega Vediamo Un bel pugno Un calcio E Arno Maneggia la spada Completamente a caso Faremo i venti Dal drogato Noi siamo qui Nell'angolino A combattere Non si sa il motivo Quanto cazzo Deve durare Sto viga di combattimento Devo Ucciderlo Fino allo sfinimento Ah Ridammi ciò che è mio E torna ai tuoi disegni Vecchio pazzo Disegni? Quelli Sono ovunque Hai inciso tutte le pareti Della cella Ma dove? Vieni Idiota Togli quelle mani Guarda il muro Che fai? Concentrati Concentrati Che cosa sono? Messaggi del passato Mi sono fatto gettare In tutte le prigioni di Parigi Per trovarli Come ti chiami? Arnaud Arnaud Victor Dorian Dorian Ma certo Pierre Vellec Conoscevo tuo padre Tutte balle E' morto a Versailles Quando è stato? Nel 76? 77? Dicembre mi pare Niente testimoni Come fai a... Tuo padre era un assassino Arnaud Ma ha dato la vita Perché l'umanità fosse libera Resta con me E forse potrai unirti alla confraternita Di onorare la sua memoria Senti di certo Il vostro piccolo culto è nobile Ma non mi interessa Io voglio solo trovare Elisa E come pensi di farlo? Rinchiuso qui Due mesi dopo Ti fa un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Ancora Concentrati idiota Che succede là fuori? I cittadini si rivellano Sta pronto Potremo avere la nostra occasione Un colpo di cannone A volte occasione Fa rima con cannone Su seguiamolo Muoviti Però A riparo Silenzio Prigionieri Contro il muro Con quale autorità? Sapevo che sarebbe finita Ma Silenzio Indietro Prigionieri Contro il muro Indietro Ok Guardi Asciottate Giusto Bravo Ben detto Eh Più di così Il tasto RT Non va Purtroppo Mi dispiace Se mi chiami ancora Idiota Guarda Ti faccio uccidere Da questi coglioni Su Metti la spada dentro Ah Buona Poco sega Ah Ce ne sono ancora No Dai Seriamente Non l'avevo capito Madonna Quanto sono Scrause Queste guardie Eppure con una spada Di merda Uccido Su Eh Morta Madonna Dove è la finestra? Ti seguo Ah Questa è la finestra Bella Pro Questa qui è la parte della postiglia del trainer Che figo Sì ma allora sei puttana Cioè mi spari Proprio quando Era una munizia Ah no C'erano le medicine Cioè io sono andata in prigione Non mi hanno tolto le medicine Bella pro Proprio No ma che schifo Comandi di merda Vai affanculo Guardia puttana Che cazzo Cioè mi sparo Vaffanculo Cioè Porca puttana Su Forza Muoviamoci Cazzo Dai su 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 Dai Su 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 Si Si perché noi ci sentiamo bro E quindi ci arrampichiamo Come dei gran coglioni Forza 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 Su 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 No Devi andare dentro Oh ma do arno e coglione Basta Cioè Si droga Ma dove tu Chi te l'ha data la droga Mentre eri in prigione Spiegamelo No perché Oh cioè L'ho fatta Non me ne frego un cazzo Su 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 Cosa devo fare Difendi Ah devo Bella Pro Quello è quello di livello 2 Scrausi Scrausi tutti Su Ce la fai Cioè Io li ho uccisi tutti io Madonna Cioè Scrausi Sissimo Questo Su Lo so Che le vien a saltare Dov'è che devo andare Oh no E poi come scenderemo Dai da questa parte Fai il salto dell'apina Mungopletico Oh bravo Arrenditi Molione Di merda E cos'altro aspetti Idiota Ora salta Cosa La prigione ti ha reso pazzo Vecchio Ci aveva già pensato Il vino tempo fa Ora vieni qui Forza Io non È impossibile Impossibile È alla portata di ogni assassino Ragazzo Quando finirai di ragionare con il culo Vieni da noi Impareresti molto Addio Idiota Tu Allontanati dal bordo Merda Dai su Salto del Ci muoviamo Non va Si blocca Devi saltare È bloccato Boh Vabbè ragazzi Il gioco si droga Molto probabilmente È bloccato Non si riesce a scendere Nel prossimo episodio Scopriremo Se si può scendere Oppure se dobbiamo stare Quassù Come un deficiente A vedere il panorama Per il resto Della nostra vita Vabbè Io vi saluto Vi invito a lasciare Like E di iscrivervi Al mio canale Ci vediamo Domani Con un prossimo episodio Di Assassin's Creed Unity E Bella ragazzi